Gentili telespettatori, buona giornata. Lo scrittore di Gomorra, Saviano, se la prende sia con Salvini che con Meloni. Nel video precedente abbiamo visto il perché se l'è presa con Salvini, ha rievocato i 49 milioni, ha preso di mira appunto il capo della Lega sulla sua proposta di incarcerare gli eco-warriors, cioè quelli che dietro il fatto dell'ambiente vanno ad imbrattare muri, musei e Saviano dice ma allora per chi ha sottratto 49 milioni, secondo la logica di Salvini, se uno ha imbrattato un muro o va in carcere, allora se ha rubato 49 milioni che cosa farebbe, dice Saviano. e poi lo accusa di essere una bandiera senza colore, che ricerca il consenso momentaneo e che è un leader insomma di poco conto, dice Saviano. E poi invece sulla Meloni perché viene intervistato sul giornale la stampa, quindi lui va contro i suoi obiettivi preferiti che sono Meloni e Salvini. Ecco, secondo Saviano dice Salvini parte dagli eco-warriors per attirare solo la rabbia, è tipico di Salvini, dice. quando in passato tutta la sua campagna social era fatta in modo da creare sdegno su alcuni fatti per attirare consenso, provocando, cioè attivando quel sentimento di rabbia verso qualcosa o qualcuno che attira molto i voti. Mentre poi parla delle ONG e delle nuove regole che ha fatto il governo. dice Saviano, l'obiettivo vero di questa legge è non avere testimoni. Ecco, non c'entra nulla, dice, far rispettare il diritto internazionale come sostiene Meloni. Mentendo, tra l'altro. Quale sarebbe la bugia, dice Saviano, aver chiamato traghetti le ONG che sono ambulanze del mare e che, tra l'altro, agiscono sempre dopo aver avvertito la guardia costiera. Allora, che agiscano sempre dopo aver avvertito la guardia costiera non è vero. Questo non è vero. Caro Saviano, se dici che altri sono bugiardi dovresti perlomeno tu farti vedere che non dici bugie, perché se dici che le ONG sempre avvertono la guardia costiera non è vero. Infatti, nelle regole fatte dal governo Meloni c'è scritto che le ONG hanno l'obbligo di chiamare le autorità competenti in quella parte di mare. Li ha chiamati traghetti. Traghetti li aveva chiamati anche di Maio Taxi. Perché li ha chiamati traghetti? Per esempio, sulla nave Juventa e sulla Open Arms, sia al sottomarino della Marina Militare Italiana, sia nella Juventus, polizia sotto copertura che è salita su queste navi, in questi due casi, Open Arms e Juventa, si è visto che queste navi andavano ad appuntamenti in mare. Quindi appuntamento con gli scafisti e trasbordo di persone a bordo. Quindi, quando la Meloni si riferisce a questo, dicendo che questo tipo di lavoro che fanno le ONG deve essere una cosa, non può essere un appuntamento e fare il traghetto, di fare la sponda avanti e indietro facendo un traghetto con gli appuntamenti in mare. Quindi, caro Saviano, il fatto che alcune ONG utilizzino questa tecnica di incontrarsi con gli scafisti in un dato punto in mare per fare il trasbordo e fare il traghetto, questa non è un'invenzione della Meloni che se l'è sognata questa notte. Realmente ci sono le intercettazioni audiovisive della Marina Militare attraverso un sommergibile che ha seguito la Open Arms e poi polizia sotto copertura che è stata sulla nave Juventa e ha video fotografato e documentato questi appuntamenti in mare. Quindi, il fatto che le ONG agiscano sempre dopo aver avvertito la Guardia Costiera è falso. Il fatto che la Meloni dice bugie chiamandoli traghetti, ti faccio presente, Saviano, che in diversi casi documentati da organi di polizia e militari ci sono realmente degli appuntamenti in mare dove alcune ONG fungono da traghetti. Ma dice poi Saviano «Nessuna inchiesta ha mai dimostrato contratti tra trafficanti e ONG». Come no? Quello che vi ho appena indicato, per poi non parlare di Casarini che la sua ONG aveva ricevuto un bonifico da un armatore perché trasportasse dei migranti che erano su una loro nave, un trasbordo. Quindi quelli che vi ho appena raccontato sono tre casi che conoscono tutti, che conosce la magistratura. Infatti sul caso Juventa c'è il processo in atto, sul caso Open Arms c'è il processo in atto, sul caso Casarini c'è il processo in atto. Quindi, caro Saviano, nessuna richiesta ha mai dimostrato, nessuna inchiesta ha mai dimostrato contatti tra trafficanti e ONG. In realtà le dimostrazioni ci sono e adesso i processi sono in atto. Lui poi aggiunge «È una battaglia ideologica che per confondere il dibattito politico». In realtà no, non è una battaglia ideologica per confondere il dibattito. Questa è una frase che non ha senso. Poi dice «Quando si parla di redistribuzione sono proprio gli alleati di Meloni e Salvini che non la vogliono. Si oppongono i polacchi, la destra ungherese». Ovvio, ovvio. I fratelli d'Italia sono sovranisti in Italia. Negli altri paesi ci sono altri sovranisti che non vogliono la redistribuzione automatica dei clandestini che fa interare l'Italia. È ovvio che i paesi sovranisti si oppongono. Ma attenzione, si oppongono anche i paesi che non sono sovranisti. Tutti i paesi europei si oppongono a una redistribuzione automatica. Non ce n'è uno che abbia detto sì alla redistribuzione automatica. Francia e Germania hanno detto «Di volta in volta vediamo, magari ne prendiamo qualcuno, ma solo di quelli che veramente chiedono asilo politico». Pertanto capite che la narrazione di Saviano non è la realtà. Saviano potrebbe dire, sinceramente, «Io vorrei far entrare tutti quelli che partono dall'Africa, perché io sono per lo Stato senza confini, per me il mondo è di tutti». Farebbe una figura migliore dicendo «Io sono per l'immigrazione clandestina» che lui dire che gli altri dicono bugie avvalorando le sue tesi, raccontando delle bugie. Eh? Che dite? Ho centrato l'obiettivo, direi proprio di sì. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.